Intanto grazie di essere venuti qua oggi, dopo la vittoria di domenica credo che siano state giornate abbastanza piene. Abbiamo tenuto ricevervi in questa sala e complimentarci veramente con voi per tutta questa stagione, prima di tutto dal punto di vista sportivo perché vincere è sempre difficile e siete stati straordinari. Grazie a Canestro Martovana per la promozione in Lega Gold, grazie e la città di Maldon. Grazie. Molto brevemente, volevo dire che il vostro essere qua oggi è un modo mio dell'amministrazione a nome della città per ringraziarvi per questo risultato, perché il merito è tutto vostro, ma era per dire che questo vostro risultato rende onore alla città di Mantova. Il vostro prossimo campionato viene vissuto, e questa è la nostra consapevolezza, per questo che vi premiamo, viene vissuto come un momento di promozione per la città, perché il nome di Mantova, grazie a voi, andrà in giro per l'Italia su campi importanti, il vostro nome, quindi il nome di Mantova sarà sui giornali nazionali, quindi questo per dire che questo è un momento di gratitudine che a nome della città, e quindi a nome dell'amministrazione, noi abbiamo. Sono insomma la presenza del Presidente del Presidente. Grazie. Di questo sono orgoglioso, ho detto anche ai ragazzi che sono onorato di avere vissuto questa stagione insieme a loro, perché è la prima volta che in basket in ottomano ci sono componenti di più etnie che compongono una squadra. Tutti ci dicevano che era particolarmente difficile, invece il carattere e la serietà dei professionisti, sia intelligenti, ci ha consentito di portare avanti questa stagione in modo semplice, in modo naturale, e questo è stata una grande cosa, i ragazzi con questo si sono compattati e alla fine eravamo veramente un rotone e un glorito che non avevamo paura di nessuno, non abbiamo mai fatto un passo in niente. Ci siamo andati a giocare in un periodo appunto degli anelli. Grazie. Grazie. Prego. Complimenti. Il nostro vice allenatore Gabriele Garanzini. Grazie. 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 Il nostro coach Alberto Morea. Grazie. 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 Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.